In uno Stato moderno, la cura delle malattie e la loro possibile guarigione è un impegno dello Stato, è un impegno della comunità e quindi è un impegno di tutti i cittadini. E' questo il mio impegno. E' questo il mio impegno. Quel 5 per 1000 che lo Stato ci autorizza a indirizzare direttamente, secondo le nostre volontà, a un destinatario che utilizzi questo denaro per curare le malattie, quel 5 per 1000 venga dato all'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II a Bari. Grazie. 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 Grazie.